God save the wine, inverno che sta arrivando finalmente, ma c'è un'altra cosa che arriva vicino a Natale Il Moscato d'Astri 2011, lumine Quindi le Moscato Nouveau et arrive, sono andato in Champagne, ho studiato la pronuncia e quindi posso dirlo Ecco, perché è quasi più facile presentare all'estero questo prodotto che in Italia, tra l'altro so che tu sarai a Louvre, no? Sì, bellissimo, finalmente, l'anno scorso ce l'ho fatto da turista, nel senso che sono stato invitato e ho avuto l'onore di presenziare questa manifestazione è piaciuta un sacco e ci siamo ritrovati con un sacco di francesi che ci dicevano E i vostri vini, dove li prendiamo e dove si trovano? E ci siamo dati da fare, ci siamo sbattuti un pochettino, abbiamo trovato gli agganci giusti ma non solo Quest'anno sono della combricola di quelli che presentano al Carusel de Louvre la selezione degli italiani Sotto la piramide, dove c'è il mistero del codice da Vinci, ci sarà il mistero del Moscato, che è questo sconosciuto Il Moscato non ha tanti misteri, io te lo svelo subito il mistero del Moscato, te lo servo Beh sì, in effetti è uno di quei vini che, diciamo, qualsiasi persona, perlomeno in Italia, penso, ma anche negli Stati Uniti glielo versi nel bicchiere ed è immediatamente riconoscibile, no? Il Moscato è un'identità tale, è una frutta, è fondamentalmente gradevole Ha questa nota positivissima che ha 5 gradi d'alcol in tutto, che adesso è di moda Noi abbiamo sperimentato, giusto, quest'estate a usarlo come aperitivo Io l'altro giorno in tv l'ho accostato a non carry di rana pescatrice Però ho detto che, in realtà, più che giovane e fresco, bisognerebbe lasciarlo un po' lì, giusto? Ebbè, diciamo che Cat Gal si toglie un sassolino dalla scarpa, ormai da qualche anno, giocando su questo aspetto In una selezione particolare, il Cru, il Vigna Vecchia, che è poi il prodotto che facciamo dalla leggera sommaturazione dei vignetini di Sorì Un ettero e sono queste piccole selezioni di 5.000 bottiglie Un 1.300 ormai vengono messe via e rivendute al quinto anno di invecchiamento E da lì, naturalmente, abbiamo veramente abbandonato le accostamenti al dolce E ci siamo infilati nel canale delle opportunità di consumo di questo vino su grandi piatti di cucina E sicuramente questo, già dal colore, si vede che è un moscato importante Questo è l'annata 2005 Quindi, pensate, è un moscato che esce col 2005 Qualcuno mi guarda male, qualcuno vi dice che l'avete dimenticato in frigo E' un vino pretestuosi, quelli che fanno questa battuta, perché poi alla fine quando la assaggiano dicono Ah, la Mosella Ecco, esatto, un vino che alla cieca, penso 8.000 su 10, ve lo scambiano per la Mosella I vini del Reno, queste note appunto di zafferano, di paprika particolarissimo Che alla fine è il territorio che viene fuori, alla distanza, ma... E' il territorio, è una serie di scelte di vinificazione Io ho sempre creduto che questo vino non fosse limitato, così, nel suo piccolo, al consumo così giovanile Ma potesse dare qualcosa di più Lo dà in questa selezione, lo dà in questa tipologia di scelta vendemiale Lo dà in questa tipologia di produzione molto parca, perché sono 42 litri in un ettaro Che poi giustamente stanno diventando preziosi, anche perché finiscono in fretta Però fondamentalmente, lunga vita al moscato in quest'ottica Lunga vita alla vigna vecchia Grazie Grazie